Il nostro cordiale buon pomeriggio dall'ippodromo del Mediterraneo, tra poco di scena le 6 corse di galoppo in programma nel convegno di oggi, gli occhi ovviamente sono puntati sulla terza e sulla seconda, la terza corsa premio viola a 12.100 euro per una condizionata che impegnerà i tre anni ed oltre sui 1.500 metri della pista piccola e a precedere invece il premio rosa, 11.000 euro per un handicap discendente che impegnerà ancora gli anziani, ma questa volta sui selettivi 2.100 metri della pista piccola. Ad apertura abbiamo il premio Geranio, una prova equilibrata, un handicap discendente che vede 9 soggetti di tre anni ed oltre pronti a misurarsi sui 1.200 metri della pista sabbia. Partiti i protagonisti del premio Geranio, prova di apertura all'ippodromo del Mediterraneo con sopra l'uneamico di Daniele che viaggiano in prima linea, dall'esterno viene bene il numero 1 di controcorrente, quindi Invectus Hero, ancora Master Dream, Winning Hunter, roccato lungo la corda c'è Mustang Queen, via via gli altri quando si completa la retta opposta alle tribune, ci si prepara ad affrontare la piegata con amico di Daniele in vantaggio, l'inseguimento sempre controcorrente dall'esterno Invectus Hero, lungo la corda Vennarecci e quindi via via gli altri quando si completa la piegata si fa ingresso in retta d'arrivo con amico di Daniele ancora in vantaggio, attaccato sempre più da controcorrente, da Vennarecci dall'interno, siamo ai 300 metri dal traguardo, adesso cellotta aperta con controcorrente che passa in vantaggio, ma dall'esterno viene bene Capitas Budella, mentre Vennarecci, Vennarecci in testa, Vennarecci attaccato adesso proprio da Capitas Budella dall'esterno, siamo sul tratto conclusivo, è lotta aperta tra Vennarecci e Capitas Budella, Vennarecci dall'interno, Capitas Budella dall'esterno e Vennarecci che probabilmente riesce a salvarsi da Capitan Sbudella, una lotta tra i due, una testa a testa vibrante tra Daniele e Scalora in sella al grigio, Vennarecci, protocollore di Antonio De Luca contro Giuseppe Cannarella invece in cabina di regia, Capitan Sbudella e Vennarecci, che guardando insomma le immagini che ripropone la nostra regia, probabilmente si salva proprio da Capitan Sbudella. Per la terza moneta giungono vicinissimi controcorrente sopra l'una, attendiamo il verdetto del giudice d'arrivo, linea che per il momento può tornare alla regia. Premio Rosa, 11.000 euro come dicevo ad apertura per un handicap discendente, tre anni ed oltre al confronto sugli onerosi 2.100 metri della pista piccola, non dichiarano forfè il numero 1 dello schieramento Cuore del Grago, il numero 2 Antericum e il numero 5 Mister Gozzo. Andy Garcia, operazione che riesce in questo istante, per cui si va agli ordini dello starter, si aprono le gabbie e sono partiti i protagonisti del premio Rosa, 2.100 metri della pista piccola da affrontare, Mister Gozzo ed Andy Garcia in prima linea, con Andy Garcia che adesso prova a scandire il ritmo, quindi Mister Gozzo, casalecchio dall'esterno, a seguire King Sol Sassafrasse in coda. Little Bad Good, si completa così la prima parte di gara, si affronta la piegata di sinistra, con Andy Garcia in vantaggio nei confronti di Mister Gozzo, a seguire casalecchio, quindi King Sol Sassafras e Little Bad Good, in tale ordine si completa la prima piegata e si affronta l'arretto apposta alle tribune, cavalli schierati a fila indiana, con Andy Garcia che prova ad allungare su Mister Gozzo, quindi in terza posizione si mantiene casalecchio, dall'esterno adesso viene avvicinato e superato da King Sol Sassafras che adesso risale dalle retrovie, quindi a chiudere sempre il Little Bad Good. Si completa in tale ordine la retta opposta con Andy Garcia che adesso viene sempre più minacciato da King Sol Sassafras dall'esterno, quindi a seguire Mister Gozzo, orcato lungo la corda casalecchio e chiudere sempre il Little Bad Good. Siamo al completamento della piegata di destra con Andy Garcia e King Sol Sassafras che si presentano in lotta dall'ingresso appunto in retta, dall'interno viene bene anche Mister Gozzo, ma dall'esterno c'è Little Bad Good, siamo ai 300 metri conclusivi con King Sol Sassafras che attacca e passa Andy Garcia, deve subire però la minaccia esterna di Little Bad Good, lotta ancora tra Little Bad Good che adesso passa nei confronti di King Sol Sassafras, siamo ai 100 metri dal traguardo con Little Bad Good che ormai ha fatto bene i calcoli e quindi viene a risolvere su King Sol Sassafras e Mister Gozzo questo premio rosa. E allora Little Bad Good, Rob and Mara Adventures per i colori, Vincenzo Caruso al training, Salvo Basile in cabina di regia per questo maschio appunto schierato dal signor Melita, 4,20 la quota sul vincente per i numeri al primo posto è il numero 7 Little Bad Good, al secondo posto è il numero 3 di King Sol Sassafras e per la terza moneta conclude il numero 5 di Mister Gozzo. Attendiamo il risponso del giudice d'arrivo, linea che può tornare alla regia. Di scena adesso la prova di maggiore dotazione, 12.000 euro, 12.000 scusate 100 euro, il premio della condizionata, premio Viola, 3 anni ed oltre al via per 1.500 metri di pista piccola. Partiti, protagonisti del premio Viola, prova di maggiore editazione, l'ipodemo del Mediterraneo, con Killa Schmidt-Fuchen, che si incarica di fare l'andatura nei confronti di Comet Gray, con la corda c'è Leo Salsim, c'è via interne, Claquiner, che adesso passa all'esterno, con Siciliano Bello, ancora Duke del Rosi, chiudere, Killa Schmidt-Fuchen, è staccato, Pedio Legacy, si completa così la retta opposta alle tribune, si fa ingresso nella piegata con Comet Gray, ancora in vantaggio dall'esterno, avanza Clockwinder, linea interna, c'è Siciliano Bello, lungo lo steccato, Killa Schmidt-Fuchen, e via via gli altri, si completa la piegata, si affronta la retta con Clockwinder, che adesso va all'attacco di Comet Gray, lo passa dall'esterno, viaggia bene, S-Pour-Bere, siamo ai 250 metri conclusivi, con Clockwinder, che prova ad allungare sugli avversari, ci prova dall'esterno, S-Pour-Bere, Killa Schmidt-Fuchen, siamo sul tratto conclusivo, con Clockwinder attaccato da S-Pour-Bere, ma si salva, si salva Clockwinder, da S-Pour-Bere e da Killa Schmidt-Fuchen, che dovrebbe essere giunto per la terza moneta, e quindi Clockwinder, Clockwinder, rivediamo le immagini, grazie alla nostra regia, attaccato potentemente dal numero 4, S-Pour-Bere, ma si salva Giuseppe Cannarella, proprio sul traguardo, grazie alle immagini della nostra regia, si salva Giuseppe Cannarella, quindi successo per Clockwinder, con Giusy Guida ai Colori, Sebastiano Cannavò al training, Giuseppe Cannarella appunto in cabina di regia, 2,28 la quota sul vincente, che va a imporsi sui due di scuderia. Bene, complimentiamoci con il team capitanato da Giusy Guida, qui con me Gioacchino Guida, per questo successo già ampiamente annunciato, lo diciamo, di Clockwinder, che non delude le attese. No, non delude, la terza di fila, il Clockwinder vince, anche se, come sempre diciamo, è sempre la lotta con il team Curschieri, però sappiamo che il Clockwinder si adatta in questo tracciato, perché lui ama molti terreni morbidi e pesanti, però la qualità, il cuore che ha, la mette in pista. A suo favore anche questi 1.500 metri? Ma guarda, lui è un cavallo da miglio, da miglio allungato, da 1.400 a 1.700, c'è sempre corso in tutti i contesti, sia a Pisa, a Milano, a Roma, non è questo. Lui gradisce, come ripeto, molto di più il pesante, non l'ho mai visto correre il pesante in qua a Siracusa, però che vengono le vittorie anche così. Complimenti ancora. Grazie. Proseguiamo con il premio Orchidee, abbinata all'Ippica nazionale. Reclamare che impegnerà i giovanissimi soggetti di due anni al confronto sui 1.600 metri della pista grande. Sono in dieci agli ordini dello starter. Partiti, i giovanissimi protagonisti di questo premio Orchidea con Principe Azzurro che si incarica di fare andatura nei fianchi galoppa Fox on the Run, quindi c'è Mer Access con Torin allo steccato, seguito da My Tully, ancora Saga Romane e via via gli altri. Si va al completamento della retta opposta alle tribune con Principe Azzurro ancora in vantaggio, ma dall'esterno non Demor de Fox on the Run, quindi Mer Access sceglie ancora linea interna e mai Tully. a seguire Mer Access, Edra Spring, Saga Romane, Ile de Cap e via via gli altri. Si va al completamento anche della piegata. Ci si prepara l'ingresso in retta d'arrivo con Fox in the Run che adesso è in leggero vantaggio nei confronti di My Tully, lo steccato Saga Romane, dall'esterno viaggia bene Mer Access, cerca di cerco un varco Principe Azzurro, lo trova adesso, allora siamo ai 300 metri conclusivi con Principe Azzurro che con Carmelo Zappulla va all'attacco di My Tully, dall'esterno viaggia bene Torin, ancora in corsa anche Saga Romane, quindi un arrivo incerto quando siamo ai 150 metri conclusivi con Principe Azzurro che cerca di difendersi dall'affondo di Saga Romane, Torin, Principe Azzurro. Rivediamo adesso le immagini della nostra regina, ma Principe Azzurro dovrebbe averla spuntata, dovrebbe averla spuntata, ecco, grazie alla nostra regia. Carmelo Zappulla trova ai 200 metri dal traguardo un ottimo varco e quindi va sul traguardo, ecco, Carmelo Zappulla con Principe Azzurro che si difende e quindi si salva da Saga Romane e da Torin, dovrebbe essere questo l'ordine assolutamente ufficioso, attendiamo il verdetto del giudice d'arrivo, ma Principe Azzurro dovrebbe essere ancora al bersaglio. Ipica nazionale anche per la quinta in programma, il premio Gladio l'ha abbinato a un handicap discendente riservato ai cavalli di tre anni che si misureranno sui 1.400 metri della pista piccola. Partiti i protagonisti del premio Gladiolo con Nonna Aurelio in vantaggio, seguito da Yellow Fox, quindi ancora Val of Chaos, adesso in vantaggio è passato Infinity Power, quindi Val of Chaos, Irish Mountain, Montaigne, Roan Street, Azog e a chiudere Born in the Mud. Si completa così la retta opposta alle tribune, ci si prepara a fare ingresso nella piegata con Infinity Power che è in vantaggio nei confronti di Born in the Mud, quindi tanto dall'esterno avanza Roan Street, all'interno c'è Nonna Aurelio, quindi Azog, Irish Mountain, Yellow Fox e Val of Chaos. Si è fatto intanto ingresso in retta d'arrivo con Infinity Power che adesso è attaccato dall'interno da Born in the Mud, ma intanto è passato Nonno Aurelio, siamo ai 250 metri dal traguardo con Nonna Aurelio che tenta la fuga, ma dall'esterno non ci sta Irish Mountain che ci prova fino alla fine, quindi Irish Mountain attacca e passa Nonno Aurelio ed Irish Mountain che va al bersaglio in questo premio gladiolo, Irish Mountain proprio sul tratto conclusivo attacca e passa il top weight Nonno Aurelio e va a risolvere quest'handicap discendente riservata ai cavalli di tre anni in sella ad Irish Mountain, Sebastiano Guerrieri, i colori e il training sono del signor Angelo Russo, 2,74 la quota del favorito che quindi va a imporsi nei confronti di Nonno Aurelio, numero 2 dello schieramento e per la terza moneta per la terza moneta giungono vicinissimi Azog e Infinity Power e ora noi ci rimettiamo nelle mani del giudice D'Arrino, linea che per il momento può tornare alla regia. E a chiudere il convegno il premio Margherita, una vendere per cavalli di tre anni ed oltre, 1600 metri di pista grande, distanza e tracciato da affrontare per gli otto raccolti al via. In deposizione in questo istante per cui lo schieramento sembrerebbe completato, si va agli ordini dello starter. Partiti, protagonisti della prova di chiusura dall'ippodromo del Mediterraneo con Charlie Deled in vantaggio nei confronti di Alice che viaggia dall'esterno, lungo lo steccato, c'è Sissi Monte, quindi Magica Grazia, ancora Ciumbalicca, Zayman, Uboldo e via via gli altri. Dalle ordine si va al completamento della retta opposta alle tribune con Alice che adesso ha preso qualcosa di vantaggio nei confronti di Charlie Deled, ma dall'esterno comincia ad avanzare il favorito Zayman, quindi per via interna e Magica Grazia e via via gli altri. Si affronta la piegata con Alice ancora a dettare il suo ritmo, nei confronti di Charlie Deled, quindi Zayman che è stazione in terza posizione e dall'esterno avanza anche Magica Grazia. Così si fa ingresso in retta d'arrivo con Alice ancora in vantaggio, ma adesso si muovono le acque perché Charlie Deled prova l'attacco, dall'esterno viaggia bene il favorito Zayman, quindi siamo ai 300 metri conclusivi con Alice ancora. Adesso comincia con braccia e frusta Gabriele Cannarella perché prova a difendersi dall'affondo esterno del favorito Zayman. In terza posizione c'è sempre Charlie Deled, si va sul tratto conclusivo con Zayman che attacca e passa Alice, quindi Zayman da favorito nonostante i nove mesi di stop torna in pista e torna al successo. Giuseppe Emanuele in sella al grigio della signora Beatrice Pruiti Ceriello e il training di Laura Di Stefano grazie alle immagini della nostra regia proprio sul tratto conclusivo. Vediamo che Zayman prende il via attacca e passa un buon Alice che fa davvero bene nella prova che l'ha vista insomma al debutto sul tracciato ottenendo la migliore piazza.